Grazie a tutti 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 Ok, questo che sto per fare è veramente l'ultimo brano Grazie mille veramente ancora a tutti di essere qui Questa è la band Un applauso ancora alla band Il brano che stiamo per rifare è il primo brano che stiamo per rifare è il primo con la quale abbiamo iniziato Quindi si può fare il primo brano che stiamo per rifare il brano che stai, questo è il 92B Ehi, come stai? Ti sto scrivendo Quella che vuole alzare, la voglia che mi fa amare, per vivere e per non ritornare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.